Incidente venerdì 1 ottobre intorno al 12.30 sulla circonvarazione di Ponte Canavese. Una chiappicanto condotta da una giovane ha iniziato a caramborare, sbattendo più volte contro il guardrail e percorrendo una trentina di metri sulla fiancata. Sul posto sono intervenuti il 118, vigili del fuoco di Ivrea e carabinieri di Ponte Canavese. Soccorsa alla ragazza che è stata trasportata all'ospedale di Ivrea. Le cause sono al Valle dei Carabinieri. Grazie a tutti.